Ecco che cosa non si è voluto capire in Italia, che non si può dire che la Lombardia è uguale al Molise o all'Abruzzo o alla Puglia, sono regioni diverse che vanno governate con strumenti diversi. La Lombardia, con voto praticamente unanime del Consiglio regionale, chiede al governo, prima il governo Prodi, poi il governo Berlusconi, di avere 12 nuove competenze che vanno dalla cultura ai temi dell'ambiente, nulla di rivoluzionario, competenze che le regioni a statuto speciale hanno da tempo, quindi non c'è nessuna intenzione secessionista, ma la sordità dei governi centrali è clamorosa. Si era fatta la riforma della Costituzione sulla base di un voto del centro-sinistra, il federalismo è stato portato avanti dal centro-destra, questa richiesta della Lombardia a cui poi si aggiunge il Veneto, a cui si aggiunge il Piemonte, a cui si aggiunge la Toscana, trova la sordità assoluta da parte del governo centrale. A parole si continua a parlare di federalismo, si comincia a blatterare di costi standard, dico blatterare perché si parla molto e si realizza praticamente nulla e quindi questo è un segno pesante di come l'assetto politico nazionale impedisce di avere più efficienza nei governi regionali. Si impedisce che la regione più forte del Paese possa acquisire competenze in più, avendo già dimostrato, come abbiamo già dimostrato, di saper gestire bene al risparmio e all'efficienza le competenze che avevamo. Per questo vogliamo competenze in più. Gli apparati ministeriali non vogliono cedere neanche una quota di potere e non vogliono soprattutto che una regione efficiente come la Lombardia si dimostri più efficiente di loro nel gestire il denaro pubblico. In anni più avanti si comincerà a parlare di spending review. Se ci avessero concesso questi poteri era la dimostrazione che si poteva utilizzare le risorse meglio e meno e ottenere risultati superiori. Quindi è stato fatto un danno grave alla Lombardia ma anche al Paese. È lo statuto che mette, riconosce in maniera inequivoca la centralità della persona e poi il tema della famiglia, il tema della sussidiarietà, il tema della libertà di scelta come valori fondanti della comunità lombarda. E quindi è uno statuto che dice che le leggi verranno fatte rispettando queste priorità. Sottolineo ancora una volta che fu approvato con un solo voto contrario e quindi fu grande il lavoro di condivisione ma recca in maniera inequivoca il segno di questi 18 anni di governo del centrodestra e del nostro centrodestra che è un centrodestra personalista, è un centrodestra sussidiario, un centrodestra che riconosce nella famiglia e nel lavoro le sue colonne portanti. Non aver potuto attuare pienamente il federalismo è un rimpianto forte, abbiamo fatto una battaglia durissima, convinta, portata fino in fondo, siamo proprio stati frenati dall'ottosità di una politica centralista e questo, ripeto, è stato un danno per la Lombardia ma è stato un danno per tutta Italia perché si poteva aprire un meccanismo che avrebbe portato vantaggi a tutte le regioni italiane, ciascuna delle quali poteva scegliere alcune materie di propria competenza su cui costruire il proprio futuro, sviluppare la propria diversità. Invece continuiamo a rimanere ingessati in uno stato centralista, siamo stati poi fermati sulla soglia di altre riforme che potevamo fare, c'è il completamento della riforma della scuola, anche qui l'Italia prima o poi dovrà capire che bisogna che la scuola tenga conto anche dei territori in cui insediata, non si può avere una scuola unica dalle Alpi al canale di Sicilia, il tema del federalismo dovrà tornare d'attualità, il tema della competitività delle imprese, il tema della piena integrazione pubblico privato e della concorrenza pubblico privato. Grazie.